E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki Io sono Stef, e così giochiamo a World of Raiders Ovvero, più semplicemente, il classico gioco del preferiresti Però sarà molto molto particolare perché noi lo renderemo interattivo Ci piace fare le cose diverse da solito e complicate Così, ci svegliamo e abbiamo queste idee frizzanti Esatto, cos'è l'idea? Praticamente ad ogni domanda a cui noi risponderemo Ci sarà un sondaggio a cui voi potrete rispondere Per farci sapere appunto cosa scegliereste voi Così voi potrete vedere tra voi consolini cosa scegliete Quindi diciamo la percentuale qual è che vince Esatto Vedere le nostre risposte e diciamo diventa tutto un tutt'uno di risposte Lo giochiamo tutti assieme Tutti assieme, esatto I sondaggi poi vi piacciono tantissimo quindi uniamo le due cose, perfetto Poi abbiamo una domanda però noi da farvi la facciamo a World of Raiders Anche noi visto che siamo a tema, ne approfittiamo Vada, la chiede Ma devo dirlo io, devo dirlo io Sì, ti lascio l'olore La starete già sicuramente vedendo E sarebbe, se vi piacerebbe vedere una serie su Minecraft PE Quindi dal cellulare Esatto In live interattiva anche lì Perché anche lì sarà molto particolare Sì, l'idea sarebbe di fare delle live da 35-40 minuti Quindi un po' più corte rispetto a quelle normali Faremo anche quelle normali Però queste sarebbero diverse dalle altre Cosa ci sarebbe di bello Praticamente durante queste live ci saranno dei sondaggi Dove noi vi, tipo, cosa ne so Facciamo un esempio pratico che è più semplice Stiamo giocando a Minecraft Abbiamo bisogno del ferro Abbiamo bisogno di farci un rifugio Abbiamo bisogno di farci il cibo Noi creiamo un sondaggio Con queste tre possibilità E voi votando decidete cosa andiamo a fare come prima cosa Quindi insomma decidete le priorità Deciderete la strada che intraprenderemo durante queste live Durante queste serie su Minecraft E sarà super interattiva Secondo me è una roba mai fatta E che può essere davvero una figata Possiamo iniziare? Possiamo entrare nel vivo del video? Sì, io stavo già leggendo la prima domanda Sì, 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 anch'io l'ho già letta Allora Preferiresti essere secco e essere sordo Allora io sto punto Io vado secco Anch'io Essere sordo Essere sordo pure io Perché? Perché dai, proprio non vedere Capito? E poi secondo me con la tecnologia si può anche arrivare a sentire qualche minima cosa Non vale Non vale Perché allora con la tecnologia ti fai gli occhi bionici E vedi tutto Eh, ma quello siamo ancora più lontani Capito? Facciamo in finta che non ci sia nessuna tecnologia No dai, essere sordo Secondo me comunque Essendo sordo Già ad esempio i videogiochi Quasi tutti te li giochi tranquillamente Da cieco cos'è che ti rimane da fare? Capito? Poi sì, puoi ascoltare la musica La musica, tutte queste cose Però No dai Dai Non vedere secondo me È vero che sono dal telefono Quindi preferirei essere sordo E infatti 77% contro 24 Prossima Ridere o far ridere Agli Cioè Agli Perché ho detto Agli? E far ridere gli altri Allora io direi che il nostro lavoro E cercare di far ridere gli altri Quindi direi la seconda Però facciamo ridere gli altri Proprio sorridendo Ridendo noi Capito? Eh vabbè Però è più importante Far ridere gli altri Ma se Ciao ragazzi Benvenuti in un nuovo video di Roblox Oggi andremo a giocare una mappa Che si chiama Gino Gino Sì ma far ridere gli altri Non è che contempla Il non ridere tuo Non far ridere Capito? Dici? Cioè Altrimenti come fai? Ti voglio vedere facendo ridere una persona Se sei una mummia Cioè come fare E infatti È lì il discorso Non riesci più a far ridere Perché tu non puoi ridere No Secondo io Va bene Fa ridere gli altri Va bene Ok E vince Ferinichi Oh No io non ho dubbi Io contro di te Io contro di te Allora io salato E Ferinichi dolce Giusto giusto Mamma mia Vedi che era contesa Era una bella sfida Allora Essere un supereroe Oppure il Natale non finisce mai Oh no Questa è complicata Allora Domanda più difficile Non si poteva fare Allora Ti stavo per dire Che il Natale non finisse mai Proprio andando secco Però se ci pensi Secondo me il Natale è bello Appunto perché ce l'hai una volta all'anno Perché comunque ti godi Proprio l'atmosfera Siamo di filosofia No certo È così Ma se tutti E poi guarda che se Magari Se diventi un supereroe Ascoltami Ok E hai il potere di fare Essere sempre Natale No Non è che Spider-Man Può fare sempre Natale Che è Ah io sono il supereroe del Natale Guarda Battene Super Ferinichi Battene Non voglio continuare Questo video insieme a te Attenso Non ha nessun senso Ha senso Ha senso Ha senso Comunque voglio essere un supereroe Secondo me il discorso Facendo Contemplando supereroe normali E non super Ferinichi Christmas Super Christmas Ferinichi Non può esistere nel mondo Certo che esiste Pensando tipo a un Spider-Man Secondo me è talmente figo Essere Spider-Man Che il Natale diventa superfluo Io vorrei essere Iron Man Ok Va bene Iron Man però che fa la neve Capito Basta Comunque essere un supereroe E infatti No vabbè Però dai quel 43% Di certo non è male Sì Sì Allora Avvero un terzo Faccio una terza gamba Allora Famici pensare Terzo braccio Terzo braccio Il terzo braccio è losso Ruti Pensa Perché pensa Allora con due mani No aspetta Aspetta te la voglio dire io Di la tua Tipo tu stai giocando al PC Quindi una mano per il mouse Una mano per la tassiera E con la terza giochi pure col cellulare Come hai fatto? Dai Abbiamo pensato alla stessa cosa Sì dovevo dirlo io Volevo dire Giochi al computer Con mouse e tastiera E mentre giochi a Clash Royale Facciamo paura Questa cosa fa davvero paura Comunque terzo braccio La terza gamba che te ne fai È solo scomoda È solo scomoda Non sei qui dovevo metterla nella sedia È scomoda È infatti guarda Schiacciante per il braccio Pubblicità Perdere sempre in un gioco O non poter giocare Oh mamma mia Se non giochi Hai già perso No? In automatico Eh però penso a giocare Tipo a League of Legends Ok E perdere sempre Giocare a Clash Royale E perdere sempre Bronzo 5 Bronzo 5 Zero coppe a Clash Royale Cioè proprio Meno 500 coppe Capito? Cioè tipo Che prendi Spacchi il pc Spacchi il telefono Cioè quanto diventi nervoso Quindi è complicato È complicato Ti divertiresti Lo stesso a giocare Se perdessi sempre? No No Non poter giocare Innanzitutto non perde mai E invece la gente piace perdere Per i nichi non perde mai Ok E se perde distrugge tutto Quindi Preferirei non giocare Va bene Va bene Andiamo avanti per favore Allora Che ti dimentichino Che ti dimentichino O che ti ricordino Come una cattiva persona Eh vabbè Eh vabbè Ma che cosa brutta Ma questo è figo Perché lo puoi pensare Proprio verso le persone Che hai conosciuto Nella tua vita E che adesso Capito Non le frequenti più E quindi è figo Pensare Se preferisci Che loro si sono Totalmente dimenticati Di te Oppure pensano Che sei una cattiva persona È figo Mi piace Vai Ragioniamo Allora Sì proprio Se parliamo Se parliamo Delle persone Che non frequento più Che tanto Non ho più amici Ok Non mi frega nulla Però metti Consolini Vorresti che un domani Ti dimenticassero Che ti ricordino Come una brutta persona Capito Se ci tieni Una persona è brutta È triste entrambi È triste Cioè delle persone Che magari è mollato Non me ne fregherebbe nulla Anche se pensano Queste cose Però pensa alle persone Invece a cui tieni Eh Allora Consolini Non dimenticateci mai Forse è meglio Essere dimenticati Che essere odiati Sì Anche perché l'odio È tosto Eh Dai Sì 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 Che ti dimentichino Dimenticatevi di me Perfetto Che vi abbiamo fatto soffrire Dimenticatevi Sapere tutto Avere tutto È bella questa Allora è difficile 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 In questa ci rimaniamo Cinque minuti Sì Allora Parti tu Sentiamo il tuo ragionamento Poi io pongo il mio Allora racconta che se io so tutto Sì Le cose me le posso costruire Non vale fare così Sì che vale Te la Te la modifico Preferiresti essere un monaco Che vive in un montagna Ma che sa tutto del mondo O preferiresti essere una persona Che non sa nulla del mondo Ma che ha tutto quello che vuole Sto pensando Ok Allora preferirei avere tutto Perché? Perché già adesso Non so tutto Ok Però vorrei un sacco di cose Quindi almeno so Allora ti faccio l'elenco Di tutte le cose che vorrei Non direi più No 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 È scomento che tutti Vorrebbero un sacco di cose Però tanto è impossibile Cioè ti esplode il cervello Non puoi sapere tutto Eh vabbè però Quasi pari Avere un metro in più di statura Un metro in meno Allora se ne avessi uno in più Sarei storpia E se ne avessi uno in meno Sarei un nano Quindi non so cosa sia peggio Allora Già son bassa così Un metro in più Due metri e 85 Sbatto nelle porte Di qualunque posto Però io sarei Un metro in meno 85 centimetri Sarei una roba del genere Un ognomo Un ognomo da giardino Allora Non lo so Io sarei due metri e 66 Che comunque è tanto Se aggiungi un metro Alla mia statura L'uomo più alto del mondo Mi sa che era due metri e 31 E allora mi prenderei il Guinness E allora per forza Non più alto Divento pure famosa Sì ma pensa per i vestiti Pensa camminare Pensa che schifo Che diventi Cioè sei bruttissima Tutta stota Ah perché basso Non è che sei bello così Sembra un bimbo Ma se ti vesti Da gnomo da giardino Però aspetta Di gnomo da giardino È bello vestirsi Vuoi fare il cosplay No è bello vestirsi da bambino Sei quanti costumi fantastici Entri nelle casette Cioè prendi le casette Quelle per bambini Ci vivi lì dentro Fantastico Un metro in meno E vabbè ma tutti Volete essere dei giganti Ma non è che hanno votato Persone che sono alte un metro Almeno così sono due metri Non vale Non lo puoi sapere Non lo puoi sapere Vabbè Andiamo avanti E pubblicità di nuovo Skip per favore Allora non festeggiare Il Natale per un anno Non festeggiare No No non scelgo Allora No Datemi qualcosa da fare Perché qua Allora Ci resta dieci minuti Allora Io lo ripeto sempre Il mio periodo dell'anno Preferito va da ottobre A gennaio Perché c'è Halloween Il mio compleanno Natale E poi finisce l'anno Quindi in bellezza Ok Quindi non mi potete fare queste cose Perché a me piacciono entrambi Io non so scegliere Vai tu Forfè Sì È troppo troppo per me Too much for me Compleanno Eh vedi Il Natale è più bello Perché C'è un'atmosfera Mentre per il tuo compleanno Non gli ho frega niente a nessuno Auguri Non è vero E poi non mi fanno i regali Cioè scherzi Eh no A qualcosa devi rinunciare No no Non esiste Essere il peggiore giocatore di una squadra vincente O il migliore giocatore di una squadra perdente E questa è una figata Se lo pensi tipo nel calcio Ho pensato Senti Che stavo ridendo tipo Messi Che molte volte fa tutto lui Sì ma è nella squadra più forte al mondo Comunque Cioè non è Eh ma quando giocava con l'Argentina Non è che fosse la più forte al mondo Cioè era il migliore In una squadra un po' E poi Sai cosa è successo Sì Che quando non riesci a segnare Solo prenderlo con lui Che fanno schifo E te la prendi pure con lui Quindi non è che sia tanto bello Capito Né a Cagliari Pensando Io non seguo il calcio Sto dicendo Rimanendo a Cagliari Al tempo c'era stato Gigi Riva Eh lo so Che aveva vinto uno scudetto E se ci pensi Quarant'anni dopo È ancora Capito Considerato totalmente Un idolo Una persona sacra Un'icona del calcio Certo Mentre se sei il giocatore più scaso Di una squadra vincente Giochi con fenomeni Però Non ti ricorda nessuno Ma non è questione di ricordare Almeno dai Il migliore giocatore Puoi comunque portare la squadra A qualcosa Puoi farli migliorare Però Secondo me va bene Devi pensare ai soldi Perché ci sono sempre i soldi Se giochi nella squadra Più forte esistente E sei il più scarso Di quegli undici Sei pagato l'ira di Dio Se giochi In una squadra scarsissima Ma sei il migliore E sei pagato poco Il peggior giocatore Di una squadra vincente Vuol dire che sei il più scarso Della squadra Non il più scarso al mondo Quindi tu che corri Intorno Intorno è quelli che vanno dritti Ho votato il rosso No era meglio il blu Vedi Tutti mi danno ragione Andiamo avanti Vai Ci siamo persi un sacco Nascere con il naso E questo è difficile Secondo me Te la dico subito Il naso di un elefante Perché così ti mangi Le noccioline a profusione Ma non ti piacciono le noccioline? Eh però è figo Ma io stavo pensando che Allora Io ho già il collo lungo Io ho già il collo lungo Mio padre mi prendeva sempre in giro Che mi diceva che avevo il collo Di una giraffa Ci convivo abbastanza bene Quindi La seconda Sinceramente Io voglio il naso Della proboscite È vera questa cosa È vera Non è che sto dicendo Ok È vera È vera Ha vinto la giraffa Essere un pesce Dalla vita in su Essere un pesce Dalla vita in giù Ce l'ho Vai Essere un pesce Dalla vita in giù Tutte queste cose Eh ma non potresti più Giocare al computer Perché? Perché non puoi più stare qua Allora ormai Fanno i cellulari impermeabili Te lo puoi portare anche sott'acqua Quindi sinceramente Gioco con queste Sono a posto E vivo in mare E sono una sirena Ma tu odi l'oceano Ma mi piacerebbe Se fossi una sirena No perché comunque I pesci che ti toccano Che ti passano vicino E andare a un pezzo di oceano Dove non ci sono pesci Non esiste Sì che esiste No Li stermino Quindi esiste Non puoi Tu sei un tritone Li stermini Ma che tritone Però essere un pesce Dalla vita in su Ma che saresti Ma che saresti Che noia Perché te ne fai allora Delle gambe No nulla Nulla Sì sì sono d'accordo E infatti Sono d'accordo Dai direi di fermarci così Che altrimenti avete Troppe domande A cui rispondere Ovviamente se volete Potete anche argomentare Nei commenti poi Il perché avete risposto A una cosa rispetto all'altra Decidete voi un pochettino Cosa fare Speriamo che vi sia piaciuto Questo video Nel caso lasciateci tanti like Così capiamo se farne altri Secondo me sarebbe divertente E farne una volta ogni tanto Perché Un po' facciamo uscire Quello che non si vede Nei video di gameplay È un po' come un vlog Quindi secondo me Sì esatto Un po' per parlare Per discutere Poi divertente Magari non gli piace Ascoltarci chiacchierare Magari siamo antipatici Capito Soprattutto tu Eh sì Che sei una sirenetta Non stai simpatico No le sirenette piacciono No 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 Perché cantano troppo E danno fastidio Bene che si riesci così Si è giusto Senti giù Mi like E se è la prima volta Che avete un nostro video Potete considerare I dati iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao